Una mappa digitale che possa far orientare le famiglie e i ragazzi nel panorama dei servizi e delle attività, non soltanto delle fasce deboli, ma dei ragazzi in generale, quindi stiamo parlando dei centri socioeducativi, aggregativi, dei progetti per gli adolescenti, per i neomaggiorenni, per le famiglie, i centri servizi territoriali, quindi la dislocazione anche di tutte le attività e di tutti i servizi che noi mettiamo in campo. Con più obiettivi, l'obiettivo sicuramente di fare orientare i ragazzi, le famiglie, le persone, quindi tutti i cittadini tra i servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, ma anche l'obiettivo di fotografare una situazione più complessiva che ci possa anche aiutare a conoscere meglio quello che la nostra città offre in quest'area ed arricchirlo a seconda delle necessità. Un piccolo esercito di oltre 500 fra educatori, psicologi e mediatori familiari sono impegnati ogni giorno nell'accompagnamento, nel sostegno e nella promozione di servizi rivolti all'infanzia, all'adolescenza e dalle famiglie del Comune di Napoli. Oggi è possibile individuare l'intera offerta attraverso una mappa digitale presente sul sito istituzionale del Comune, seguendo il percorso aree tematiche, welfare, infanzia ed adolescenza, per trovare le dieci etichette in cui sono suddivisi tutti i servizi. Pensiamo di arricchirla, quindi guardandola non soltanto dal punto di vista delle singole attività e dei singoli servizi, ma anche dal punto di vista dei territori. Infatti possiamo vedere dove sono si eslocati anche tutte le attività che sono contemplate all'interno dei servizi e si scoprirà forse che ci sono delle opportunità che noi ancora non conosciamo sufficientemente. Grazie.